Comincia a diventare pesante il bilancio dei danni causati dal maltempo. Dopo i 10 milioni dichiarati dalla Col di Retti, arriva la denuncia di altri 18 milioni dal comparto termale di Montegrotto. Tra abitazioni sfollate, alberghi in vasi dell'acqua, scuole evacuate, questo è il conto che è stato consegnato a Luca Zaia, in partenza per chiedere fondi straordinari per i luoghi disastrati a Roma. Ma siamo soltanto all'inizio della conta dei danni. Il maltempo ha colpito gli allevamenti di Cozza e del Delta del Po. Un'altra mazzata al comparto, dopo la moria di vongole registrata nella primavera scorsa. E poi c'è la rimozione dei rifiuti dalle spiagge e il loro ripascimento. Soltanto il comune di Jesolo costerà 5 milioni di euro. Ma le risorse maggiori saranno assorbite dalla viabilità devastata ovunque dalla pioggia. Buche, smottamenti, marciapiedi distrutti. In montagna continua a nevicare, difficile capire cosa si troverà sotto la neve con il disgelo, ma i più tremano, mentre rimane l'emergenza valanghe. Nel San Donatese gli argini del Piave, dopo la prolungata pressione di questi giorni, e il flagello dei fontanazzi, stanno cominciando a cedere. E intanto l'alta marea continua ad assediare Venezia. Anche lunedì sera è salita a 123 cm sul medio mare.